salve ragazzi ben ritrovati ci ritroviamo qui ancora una volta con lo spark in zero dramatic showdown che ormai è più dramatic che showdown e ci troviamo a commentare il torneo giapponese io mi aspetto cose almeno carine dal torneo giapponese non ci sono stati drama perché io comunque lo sto commentando a posteriori su twitter tutto tranquillo si sta ancora parlando del drama francese quindi per quanto riguarda queste finali mi aspetto uno spettacolo quanto meno decente vediamo un po di che cosa si tratta vediamo un po che personaggi ci sono e cerchiamo di fare un commento che sia quanto più divertente possibile io non ho visto niente non so neanche quali sono i team in ballo e spero di essere stupito in maniera positiva ecco abbiamo un trunk so contro c3 ecco vedete c'è c13 c'è c13 e questa è una cosa ottima quindi abbiamo c13 che un personaggio che io ho sempre definito fortissimo evidentemente c'è qualcuno che lo sfrutta a dovere e sono proprio giapponesi sono molto contento di vedere c13 ho sempre considerato straforte questo personaggio un altro c13 cavolo il giappone terra di c13 attenzione e poi purtroppo ci stavamo gasando ma doveva ricrederci perché arriva un cattivo cliente che il dottor gelo giustamente si prende una combo di sparking in faccia lunghissima non so quante c'è nel quante ne sta perdendo voi tenete presente che in giappone si lagga pochissimo perché non soltanto hanno delle connessioni della madonna ma abitano anche tutti abbastanza vicini io mi ricordo questa cosa ai tempi di street fighter 4 che aveva più o meno lo stesso netcode che adesso spark in zero e i giapponesi giocano benissimo online quindi non fanno proprio testo e proprio in virtù di questo io mi aspetto di vedere roba abbastanza hardcore diciamo perché loro se lo possono permettere ancora una volta ecco avete visto lui ha rotto il loop di key blast che molti odiano con il counter dl3 senso selvaggio quindi c'è un modo di romperlo a distanza ravvicinata però ovviamente devi avere degli indicatori a disposizione se non ha indicatori è una true combo non ci puoi far nulla altro ospite estremamente sgradito di questi tornei ricumma ma ovviamente ce lo aspettavamo e ritorna tranks per milion oa che il giocatore numero uno a sinistra stanno di ricumma lo gira con il martello ovviamente gli fa qualche combo gli fa un bel knock down che gli permette di caricarsi bella questa trovata mi piace quando scelgono delle combo che magari fanno meno danno per se tappare certe situazioni tipo appunto lo sparking mode tranks vola in super saian 2 lo stordisce perfect smash parte lo scontro di teleport eccolo qui il bug che fanno anche i francesi bug bello devo dire la schivata ricumma gli va alle spalle gli tira la la bolla gigante che probabilmente lo prenderà perché l'ho preso di spalle infatti lo prende in pieno milion oa on life support mi manca soltanto una barra e un quarto ricum se ne va e lascia spazio al dottor gelo vediamo un po che cosa succede adesso finto coraggio attivato mi sembrano comunque già molto più leali rispetto ai francesi nel mondo di giocare c'è il dottor gelo è vero ma non viene utilizzato per giocare in maniera lamera ma soltanto per per battere l'avversario quando le combo legittime diciamo qui vediamo uilo altro ospite estremamente sgradito di troppe ranked sembra che stiano giocando dei personaggi meta ma li stiano giocando in una maniera normale consona senza abusare di nulla ok arriva il nostro c13 combo di quadrati che viene interrotta e attenzione c13 si trasforma questo perché quando si trasforma va molto meglio contro i giganti quindi lo sta usando come lo deve usare trasformazione di c13 per tutta risposta si prende una serie di schiaffoni da parte di uilo che fa le combo come le deve fare gli va alle spalle come vedete lo staggera quindi è una counter specifica per i giganti prova a fare una combo strana che non avevo mai visto fare su sui no ok arriva il bomber boom mi fa malissimo quindi anche questa super è molto anti giganti altro picca abbastanza frequente in questo periodo espopovic perché è molto forte io quando ho iniziato a usarlo sto personaggio l'ho usato come mimma ma piano piano ha iniziato a scalare le classifiche ad entrare nel meta però è un bel personaggio a me non dispiace diciamo che semmai non è tanto un fatto di meta quanto un fatto che ci sono pochi personaggi da due e siccome il meta è ormai team con cinque personaggi non hai molte possibilità di scelta parliamoci chiaro ancora loop di chi blast che entra in combo addirittura lo butta per terra deve cambiare assolutamente gelo perché sennò fa una bruttissima fine bella percezione questa vola via e credo cambi cambia se lui vola via soltanto per cambiare fondamentalmente potrebbe fare molto di peggio ma non lo fa non so se per paura della squalifica o semplicemente perché i giapponesi sono intrinsecamente onesti ancora 13 classica classica combo e poi va alle spalle questo è un altro dei grossi problemi secondo me di spark in zero quando si utilizza il teleport per scagliare lontano l'avversario e poi si usa l'inseguimento alle spalle senza che l'avversario possa fare nulla io non la sopporto questa strategia però diciamo che c'è molto di peggio la considero abbastanza ci ma c'è molto di peggio in spark in zero ancora trunks eccola lì esattamente la tattica di cui parlavo lo butta per terra ecco qui max power di ricom cambio spopovic perché giustamente può assorbire molto più danno spopovic è una sorta di mini tank spazzata in tu bolla gigante in tu suprema che connetterà sicuramente anche sul teleport connette non ci può fare assolutamente nulla spopovic arriva il cambio perché è in difetto di chi attivazione finto coraggio spopovic cerca di togliersi di mezzo forse perché vuole cambiare ma si becca un po di chi blast nella schiena per il disturbo e infatti voleva cambiare arriva willow che giustamente la counter per il dottor gelo diciamo che questo è un willow counterante mettiamola così è un po un male necessario perché se il meta è quello degli androidi sapete bene che willow counter abbastanza bene gli androidi oltre a essere comunque un personaggio estremamente forte evidentemente lo sta utilizzando perché sa che tipo di team all'avversario e annulla completamente gli androidi diciamo che così posso anche capirlo cioè un willow fatto per counterare un male peggiore che sono gli androidi non dovrebbe essere così cioè si dovrebbe giocare il personaggio che piace giocare però purtroppo si ragiona in questa maniera ormai arriva appunto c13 che l'anti gigante di kali chiamiamolo kali nel giocatore numero 2 e poi arriva il cambio a c13 quindi diciamo che il meta del giappone è un po cercare di counterare dinamicamente il personaggio dell'avversario un po un carta forbice sasso per così dire e quindi cercano sempre di forzare il match up negativo tipo willow ci metto l'android a13 poi arriva gelo e ci metto willow per counterare gelo insomma va così più ovviamente questa combo del ki blast che potete anche odiarla però ormai è diventata parte integrante del meta la fanno molti personaggi non tutti ma molti ha attivato il senso selvaggio medio noa quindi vediamo come lo countera cali lo countera con il dottor gelo e arriva appunto willow vedete esattamente il ragionamento che ho fatto prima è precisamente il ragionamento che ho fatto prima scambio di teleport andiamo alle spalle prova gli z counter però non sempre gli riescono sta cercando di equiparare il tutto ma non ce la fa arriva il max power di willow vediamo come lo sfrutta lo sfrutta per sparare qui arriva ricum che è in grado di assorbire più danno rispetto a zero arriva alle spalle giusto giustissimo anzi perfect smash carica un po di chi cerca di temporeggiare percezione sulla testata di willow ma è comunque molto difficile specialmente con un guido in sparking mode adesso vediamo un po questi z counter ha una bella montagna da scalare perché deve cancellare due barre vediamo un po come se la cava non benissimo ci ha provato però non è andata bene tattica chip alle spalle che purtroppo è parte integrante di spark in zero ormai diciamo che la tattica principe questa e come vedete è praticamente incounterabile perché neanche i giapponesi ci riescono bello questo teleport alle spalle per evitare il senso selvaggio spazzata suprema ancora una volta diciamo che ricum è un po il l'nvp di questa prima partita migliorno a prova il teleport ancora una volta ma non si può far nulla perché range di questa super è estremamente alto arriva ancora il dottor gelo sicuramente migliorno a cambierà con willow adesso cerca di allontanarsi per evitare i ki blast ma si prende un calcio in faccia dal dottor gelo quindi vantaggio netto adesso per cali tranks super saiyan 2 che non ha fatto nulla in realtà in questo match attiva il max power vediamo se riesce un po sbloccare la situazione una suprema suggero potrebbe essere importante nell'economia del match però vediamo giro che continua a scappare adesso diciamo che ha senso questa è una tattica tipica da utilizzare contro lo spark in mod secondo me qui ci sta ecco magari farla per tutta la partita no però quando devi evitare lo spark in secondo me sacrosanto fare una cosa del genere tranks si sta mettendo in una battaglia molto vantaggiosa di teleport ma non riesce a pressare il vantaggio abbastanza gelo vola via per poter cambiare arriva ancora c13 e arriva ancora uilo che però secondo me è un cambiamento sbagliato perché ha un match perdente contro android a 13 arriva ancora la bomba boom giustamente lui la counter con l'onda esplosiva fa benissimo per evitare il danno lo gira con il martello e se lo spupazza un po come vuole con betta di willow che viene super counterata tanti super counter da parte di kali proprio tanti super counter però non bastano gli arriva la tripla testata che gli toglie un quarto di energia ultima barra di energia per l'android e 13 io tifo il team con l'android e 13 anche se c'è gelo però non fa niente in realtà tutti e due i team hanno l'android e 13 adesso che ci penso il tema se il team senza uilo ecco facciamo così team con android e 13 ma senza uilo sono sorpreso della popolarità del android e 13 giappone cioè entrambi team della finale hanno equipaggiato questo personaggio onda esplosiva da parte di tranks vediamo se riesce a sbloccare un po la situazione ancora una volta non ha molto con cui lavorare però qualcosa può farla comunque c'è da dire che è molto più sano l'equilibrio quando i match durano 600 secondi perché è meno scontato e ci sono più possibilità di cambiare se fosse stato con 350 secondi come l'era anche questa partita sarebbe finita da un pezzo ma tranks può sempre sbloccare il risultato proprio perché la partita dura di più ok arriva lo scontro arriva il minigame scontro di teleport come al solito max power qui vuole sbloccare adesso il tempo sta veramente per finire mancano 50 secondi giustamente il dottor gelo scappa perché non può permettersi di sorbirsi la combo con il max power prova la super ma non penso che partano questa è la supera impeto nella suprema lo prendi alle spalle gelo e penso che qui sia effettivamente finita adesso arriva ricom si attiva il max power è veramente finita la partita lo manda via e infatti attiva il max power bravissimo qui prova a punirlo con willow e ce la fa lo riesce a punire ma potrebbe avere qualche problema adesso a chiudere la partita perché non ha più chi e quindi non so che cosa si può inventare ricom se lo spupazza ancora una volta l'nvp della partita questa suprema che fa tantissimo danno prende willow alle spalle gli fa malissimo lo manda quasi a casa e indipendentemente che riesca a batterlo o meno comunque penso che la partita si in mano a cali willow è veramente ad un passo dalla sconfitta con betta su trunks prova a fare qualcosa ma si difende molto bene cali presa per assorbirlo non va per lo scontro di teleport strano io l'avrei fatto dato il vantaggio di chi però ormai manca veramente poco può anche farsi menare fino alla fine e non succede nulla vince ovviamente il dottor gelo vediamo un po come si evolve la partita quindi siamo sull'uno a zero per quanto riguarda cali si sono invertiti quindi attenzione adesso cali a sinistra ricom super counter usa il bug ancora super counter bravissimo con ricom però deve capitolare alla fine lo prende alle spalle bello ancora una volta il bug forte trunks dottor gelo entra e gli mostra immediatamente il finto coraggio con betta per portare le spalle non va a buon fine spazzatina tattica arriva l'android a13 che ricordiamo è molto forte contro gli androidi proprio perché può evitare la presa bello questo setup per i keyblast ancora una volta pedata keyblast lo prende alle spalle questa farà malissimo mi sa che riesce ad ammazzarlo l'ammazza l'ammazza ecco quanto è forte questa combo questo è veramente sgrava cambio in android 13 trasformato una tacca per mio no stiamo facendo vedere un po di highlights di questo finale prova a resettare con la presa ma non ce la fa attenzione lo stordisce era a un passo dal morirci ma mi sa che ci muore stavolta attenzione migliorno a parte subito fortissimo questo android e 13 sta facendo veramente i buchi arriva willow si butta di testa completamente qui lo serve assolutamente a consolidare il vantaggio in questa situazione arriva max power che gli arriva ancora la testata prova la presa contro ricomi max power non vale assolutamente la pena il combo di schiaffoni ricom giustamente si piazza sotto per evitare alcune delle mosse di willow lo prende alle spalle qualche chi blast suprema e passa la paura adesso li farà malissimo ah no giustamente ha usato l'onda esplosiva e si è salvato ha fatto benissimo qui nelle spalle lo lancia per aria non and esplosiva utilizzata all'ultimo colpo non sono d'accordissimo con questa scelta perché non poteva più fargli danno ma comunque era finita bravo ricom fino ad adesso però adesso dovrebbe sfruttare secondo me in teleport non tentare il super counter necessariamente però è molto gridi in questo caso attiva il max power soprattutto perché voleva attivare il max power perché che ti serve conservare il chi se devi attivare max power che te lo restituisce tutto ancora combo di ricom che è veramente fortissimo in questo torneo giapponese a stottier assoluto proprio sta facendo praticamente tutto lui ancora una volta spazzata suprema una delle chiavi di lettura ormai di queste finali ricom spopovic non può far nulla se non prendersela in faccia approfitta per caricare un po di chi l'altro approfitta per cambiare torna l'androide 13 che non ha però il vantaggio di chi e sappiamo che gli androidi se non sono in vantaggio sono in difficoltà perché non possono ricaricare manualmente il chi però riesce comunque in qualche modo a portarsi in vantaggio sta cercando a tutti i costi lo stan per poter fare la combo con i chi blast li va alle spalle ovviamente non può farci nulla come al solito ancora prende alle spalle prova stannarlo arriva provvidenziale il super counter lo prende ancora alle spalle però altro super counter ricomo va in vantaggio e giustamente adesso inizia a teleportare perché vincerà sicuramente lo scontro arriva il max power quanto sgravate max power di ricuma ragazzi lo stordisce lo stordisce ancora spazzata pedata pedata spazzata pedata spazzata chissà sia una vera combo probabilmente non arriva una suprema un po tirata a caso non credo che entrerà invece entra non solo non chiedetemi perché ma entra attenzione perché cali potrebbe rimontare la partita a c'è anche muten non avevamo ancora visto muta in questo set pedata di muten subito arriva lo super counter non ho capito che ha fatto usato la d'esplosiva a caso con l'avversario lontano probabilmente un errore di input rientra il genio si picchiano vediamo chi spamma meglio vince il genio ottiene il lockdown perché tanto non poteva far molto era in svantaggio di chi adesso si si sarebbe dovuto prendere il vantaggio però non l'ho preso po di scelte abbastanza strane in questa finale arriva il max power e qui ricuma in grossa difficoltà perché ha soltanto una barra di chi vediamo come si difende trance pericolosissimo qui ottima difesa da parte di ricomma mi andrà alle spalle come al solito incounterabile e mi sa che qua è finita è finita la resetta ancora e lo manda via penso che questa partita sia assolutamente scontata e sia tutta per milioni riesce a caricarsi addirittura un altro sparking con tranks si cercano si trovano si picchiano vediamo chi vince vince tranks suprema perché no lo prende va ancora ancora una volta a consolidare il vantaggio in questa finale esplosione in faccia lo porta a due tacche popovic per incassare un po di danno e non rischiare di perdere tranks popovic molto coriaceo come personaggio non capisco perché non attiva il buff probabilmente perché gli basta semplicemente scappar via ok aspettato che finisse si prende una combo per il disturbo ma è sempre meglio che lo sparking mode utilizzi alle 3 counter pedate spazzata cambio in android e 13 senza cappellino però super a casissimo vediamo se lo prende giustamente non lo prende non ha neanche senso a tirarlo lì la su però va bene così prova a fare la come con i chi blast ma sbaglia era leggermente disallineato muten attenzione però che c 13 può lasciarci potrebbe lasciarci attenzione vediamo come la gestisce in difesa sono veramente le battute finali combo di chi blast che viene rotta dal counter con l3 abbiamo trovato una un utilizzo al counter con l3 attenzione qui è tutto nelle mani del genio vediamo quanti super counter riesce a fare ha sbagliato alla fine peccato peccato il tentativo era buono dovrebbe essere rimasto willow soltanto no c'è satan c'è satan attenzione satan spopovic non penso che sarebbe bello vedere un comeback 1 contro 3 di mister satan però non credo sia una cosa fattibile gli va dato onore che continua a provare a lottare io sinceramente avrei mollato perché non per essere tossico perché proprio non si può fare niente in questa situazione ma va bene così insomma ripeto si sente la mancanza del tasto a renditi anche e soprattutto in ranked cioè queste partite non hanno senso infatti penso che si stia facendo menare e si sta facendo menare perché comunque era rimasto solo ok adesso siamo quindi sull'11 questa è la partita finale che decreterà il vincitore definitivo abbiamo ricom che parte subito all'attacco per cali ancora una volta si sono invertiti i due giocatori sono quasi pari come chi vediamo chi ne esce vediamo chi ne esce ok adesso trans vediamo se ne abuse in qualche modo si trasforma credo gli di anche le barre di chi adesso no non gliele da quindi deve caricare manualmente bravissimo interrompere il max power di ricom prova la spazzata ma ricunta le porta combo stan si prende il danno che si può prendere arriva alle spalle prova la spazzata non la trova arriva il dottor gelo bella prova da parte di tranks finora è stato estremamente utile per ammorbidire un po ricom però adesso c'è il dottor gelo e il dottor gelo ha altre intenzioni bello il sidestep sul teleport la tech chiamiamola la tech non chiamiamola il bug perché bug è dispregiativo chiamiamola la tech qui abbiamo invece c13 con un grosso vantaggio di barre vediamo come riuscirà a gestirla il dottor gelo prova ad entrare uno tiene a distanza con i keyblast nonostante lo svantaggio ecco adesso di entrato e adesso sono cavoli per il dottor gelo adesso sono cavoli a sta provando a fare la come del keyblast però ancora una volta vedete il counter con l3 che evita il combone quindi tenetene presenti anche voi perché questa combo prevedo che diventerà estremamente popolare nel prossimo futuro arriva will o combo di schiaffoni tanti schiaffoni testate mamma mia li ha fatto malissimo un'altra testata e non è finita non è finita secondo me dovrebbe trasformarlo questo c13 e invece cambia cambia con ricum che però non ha un match up vantaggiosissimo contro will o da notare che non stanno utilizzando le le combone di testate probabilmente perché ricum a quattro indicatori quindi li può fare facilmente la percezione prova il perfect smash lo trova ancora una volta percezione perfect smash per mandarlo via attivazione del max power vediamo che cosa ci fa con max con il max power gli va alle spalle però quello si gira in tempo ancora una volta proiettili 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 lo stordisce altri proiettili ancora will o lo porta se lo porta in uno scontro di teleport che a suo vantaggio nonostante abbia più chi ricuma perché lo fa uscire da una brutta situazione riesce a parare il proiettile finto coraggio per gelo che adesso si deve scontrare con c13 unigame vince gelo fortunatamente per lui però adesso l'android a 13 gli addosso e deve giocarsela di super counter cosa che non può fare attiva il senso selvaggio c13 quindi sarà protetto dal prossimo colpo non ti basta eccolo lì bravissimo a utilizzare i venici per uscire dal senso selvaggio probabilmente è l'unica tra le skill top tier che ha effettivamente una counter la counter si fa premendo il quadrato per triggerare il senso selvaggio per farlo partire e poi facendo il teleport alle spalle per dire noi che usiamo gli standard è quadrato ed r1 non so per i classici come funziona arriva la trasformazione finalmente un po tardiva forse però arriva trasformazione si carica mamma mia entra in sparking vediamo che cosa si inventa con lo sparking credo che la super di 13 trasformato sia molto forte vediamo se la sfrutta willow rischia di lasciarci a sorpresa eccola lì rischia di lasciarci bravissimo è costretto ad utilizzare l'onda esplosiva ma la usa più che volentieri oserei dire altra su perché si deve prendere perché ha finito le onde esplosive ovviamente va via lo deve taggar via popovic non so come se la gioca con 13 probabilmente non bene però vediamo va alle spalle spazzata arriva alle spalle spazzata costanna presa bella bella manovra da parte di milion oa bella sequenza arriva tranks baga stan cambio ancora una volta abbiamo gero con finto coraggio combetta presa teccata spam di chi blast ancora calcetti combo di quadrati prova lo stand non lo trova però utilizzare inclinazione sonica adesso in grosso vantaggio di chi vediamo che cosa fa ancora una volta chi blast e chi blast e chi blast utilizza il bug viene mandato via ormai giocano anche contro il bug perché danno per scontato che arrivi eccola lì anche in giappone lo fanno con una discreta precisione questo bug non è preponderante come in francia però attenzione willow contro gero i due dottori che si scontrano schiaffi ancora schiaffi che vengono teleportati ricom non stordisce però il pesca per tezze perfect smash prova ad attivare max power non lo trova adesso quello ovviamente gli addosso perché non vuole che attivano max power però a ricom non frega assolutamente niente lo manda via si carica il max power e willow qui è veramente in un mondo di cui è veramente in un mare di guai però se ne libera con lo schiaffone bellissimo schiaffone tattico anche spopovic se la passa male però se la passa meglio perché ha più energia ancora una volta spazzata suprema un po la mvp di questo di questo torneo oserei dire per cali che però rischia perché comunque non ha moltissima vita infatti cambia arriva c13 trasformato con sei barre attenzione sei barre di chi schiaffo vantaggio di chi per lui prova il counter con l3 lo trova cambio c13 normale non trasformato inclinazione sonica di cali chi blast per tenerlo lontano non capisco bene qual è il piano di cali probabilmente temporeggiare sta provando a temporeggiare tantissimi chi blast però così ha perso il vantaggio infatti adesso che entra in combo androide 13 è in vantaggio ma ricordiamo che androide 13 trasformato all'onda esplosiva quindi può uscire anche da situazioni abbastanza precarie senso selvaggio step indietro dottor gelo spazzata prova a cercare ancora la combo di chi blast non la trova sono molto disallineati due personaggi in questo momento si toglie di mezzo per taggare arriva scopo vicione soltanto due tacche di energia per lui è difficile capire chi è in vantaggio in questo momento solita tattica chip dell'andare alle spalle adesso anche il vantaggio di chi non ho capito perché ha fatto la presa secondo me è stata una grandissima stupidata perché poteva semplicemente continuare la combo e eventualmente vincere lo scontro di teleport perché aveva tanto chi in più onda esplosiva di trunks gelo sembra estremamente in salute con queste tre barre e mezzo adesso sono diventate due deve fare qualche reset trunks bella sequenza lo prende però prende in faccia quindi non può combare si prende un po di chi blast ancora chi blast per tenerlo lontano finto coraggio si protegge il dottor gelo c13 è ricum che prova a caricarsi attiva il finto coraggio strana scelta probabilmente per tentare un approccio un po più fisico ecco qua si è desincata la combo si è disallineata però lui non demorde lo butta per terra prova a caricarsi lo sparking probabilmente no carica il finto coraggio è stata un po una finta vuole puntarla sul fisico vuole puntarla tutte sul sul gioco corpo a corpo non gli va bene perché adesso ha un grosso vantaggio di chi migliorno ha quindi riuscirà probabilmente a fargli un po di danno e a taggar via invece no perché sbaglia arriva all'altro c13 che cerca di interrompere il tag cerca di interrompere il tag entra in combo rischia tantissimo prende l'onda esplosiva cambia ovviamente però anche uilo non è propriamente in salute perché ha praticamente una barra e un quarto però attiva il max power questo potrebbe essere determinante testate ha soltanto due indicatori per fare la percezione si è preso uno schiaffone che ho sentito anch'io a casa mia con il max power e qui rischia c13 rischia combo da 4 quadrati si scambiano cortesie e arriva la testata risolutiva da parte del uilo questa è veramente enorme probabilmente è la giocata partita questa è la giocata torneo anzi presa sulla percezione l3 per riato giustamente attenzione perché questo ricum ha sete di sangue counter alla presa ancora triangoli e se la deve giocare con i super counter qui è tutta sui super counter lo sta pressando da morire rischia di portarselo a casa questo spokovic vediamo un po non se lo porta a casa perché arriva il cambio inevitabile e adesso tocca all'android e 13 non trasformato difendere il territorio vediamo se ci riuscirà è molto in difficoltà anche lui ma mancano ormai pochissimi secondi quindi salvo miracoli credo che questa partita sia decisa ormai prova a spammare un po di percezione per difendersi preferisce prendersi le prese l3 per counterare la combo di chi blast 3 secondi 2 1 e cali si porta a casa il qualifier giapponese ancora una volta vediamo dottor gelo trionfare ma se la via ormai funziona in questa maniera ci possiamo far poco e questa è la conclusione del tornino giapponese devo dire abbastanza divertente un po di pic meta ma anche un po di pic abbastanza spicy mettiamola così bene ragazzi siamo alla vigilia del tornino italiano ci vediamo al tornino italiano che commenterò in live l'1 e il 2 dicembre a quanto mi hanno detto poi vedremo un po quali sono gli orari grazie per avermi seguito e ci vediamo alla prossima